Utilizzavano un congegno artigianale che, una volta attaccato alle macchinette cambia soldi del bar, le mandava in tilt con una scossa di 500 volt, provocando l'elargizione di banconote, anche 1000 euro a colpo. Nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato due uomini per tentato furto aggravato all'interno della saletta di videopoker di un bar di Marina di Ravenna. Il 112 era stato allertato da alcuni commercianti che avevano riconosciuti due uomini, un bosniaco e un macedone, dalle foto segnaletiche. I carabinieri che li hanno fermati all'uscita del locale hanno rinvenuto sotto il sedile dell'autovettura un dispositivo composto da un grosso pacco di batterie, un telecomando con pulsante di accensione e circuito elettrico completo di transistor, il tutto avvolto ad anastro isolante blu. Durante la perquisizione domiciliare, inoltre, è stata ritrovata la somma di 2400 euro in banconote di vario taglio, oltre ad altri due dispositivi elettrici. I carabinieri hanno dichiarato che questo genere di colpi è sempre più diffuso, con tanto di video su YouTube che spiegano come costruire questi dispositivi. Manuela Foyera per Ravenna Web TV